Una lotteria di beneficenza organizzata in occasione dell'Epifania dallo Juventus Club Gianni Agnelli di Cerignola, il cui ricavato servirà per aiutare i più bisognosi. Così beni di prima necessità e capi di abbigliamento sono stati già donati alle suore della Caritas Diocesana e all'Opera Pia del Buon Consiglio. Ma non solo, un defibrillatore è stato destinato all'Associazione Cuore, mentre una somma di denaro servirà per la ricerca e per combattere la fibrosi cistica. Sono le tante iniziative di carattere solidale che sono state intraprese e promosse dallo Juventus Club Gianni Agnelli di Cerignola e del presidente Gianni Pugliese per un appuntamento ormai divenuto fisso. La lotteria benefica è stata infatti organizzata per il terzo anno consecutivo. È da tre anni che abbiamo intrapreso questa storia di approfittare della lotteria di beneficenza che abbiamo creato per poter donare tutto il ricavato in beneficenza, dove verranno date alle suore della Caritas Diocesana tutti i viveri e abbigliamento. La cosa più importante è che in serata ci sarà una manifestazione dove daremo un defibrillatore all'Associazione Cuore di Cerignola, delle autoambulanze, e una parte in denaro alla fibrosi cistica con sede in Verona e anche della sede della provincia della regione Puglia.